E' durato poco più di due ore il confronto tra i vertici della RSA Le Palme di Taggia e i legali dei familiari e degli ospiti che si trovano all'interno della struttura. Al centro ovviamente la questione dei maltrattamenti che sono emersi dall'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza all'interno della RSA di Taggia. Ecco che cosa ci hanno detto alcuni avvocati che hanno partecipato all'incontro di oggi pomeriggio. L'emergenza ha cercato di responsabilizzare il proprio ruolo nel senso che ha sottolineato il fatto di avere diverse strutture da controllare che ovviamente non sono su tutte le strutture ma che stanno di contro facendo il possibile al fine di limitare il più possibile i danni di aumentare la sicurezza, di aumentare i controlli eccetera. Ovviamente noi non ci reputiamo al momento soddisfatti di questa risposta innanzitutto perché è compito della struttura e della sua dirigenza verificare eventuali episodi che possono essere solo campanelli d'allarme. Non scendiamo nello specifico degli episodi perché credo che l'operatore prima di arrivare ad un maltrattamento vero e proprio abbia messo in atto altri episodi di minor gravità. Quindi non si arriva subito alla sberla all'utente ma magari nel frattempo lo stesso operatore prende anche le misure delle persone con cui lavora per vedere fino a dove si può spingere. Non è arrivato dall'oggi al domani a spintonare, a maltrattare eccetera. Ci sono stati credo degli step intermedi come in tutti gli aguzzini fondamentalmente. Quali sono i prossimi passi adesso per la tutela di queste persone? Adesso i prossimi passi sono da parte nostra fare una verifica tramite gli atti del procedimento penale, costituirci parte civile nel processo in corso in modo da avere tutti gli atti, tutti i filmati, tutte le intercettazioni al fine di valutare le varie posizioni degli indagati ma anche le varie posizioni delle persone offese. Per quanto riguarda la tutela sappiamo che la procura in collaborazione con l'ASL stanno comunque continuando a fare dei sopralluoghi, a fare degli interventi. La struttura sta cercando di escludere l'intervento delle cooperative assumendo in maniera diretta tutti gli operatori in modo da avere un controllo più diretto. Questo anche al fine di cercare di sanare il rapporto di fiducia con i genitori parenti degli utenti il quale al momento è praticamente inesistente. Oggi si è parlato anche del proseguimento della gestione della struttura dopo lo scandalo che c'è stato. Si è parlato anche di quello, molto probabilmente ci sarà un direttore nuovo, un responsabile nuovo che avrà un contatto aperto con i familiari, un numero di telefono, una mail dove i familiari possono far arrivare le segnalazioni. Le segnalazioni credo che in questo momento, oltre che alla struttura, vadano fatte alla Procura della Repubblica in modo che i magistrati siano conoscenza che i maltrattamenti non sono finiti a marzo quando sono stati notificati gli avvisi di garanzia ma che molto probabilmente sono andati avanti. In oggi è rimesso che la direzione ha sicuramente e sta prendendo dei provvedimenti, sicuramente hanno aumentato i controlli e per il momento chiaramente è ancora al vaglio della magistratura per cui non hanno dato informazioni più specifiche, ma quello che vi dicevo è che sicuramente stanno attivandosi con dei controlli maggiori, questo sì. Io ho avuto possibilità di parlare col mio amministrato e l'ho trovato bene, tranquillo, mi ha detto che lui sta bene e che non ha avuto mai problemi di alcun genere, questo lo devo dire. Grazie a tutti.